...con due L, che abbiamo incrociato più di una volta al canale, è silenzio, è silenzio. E c'è una corsa che pesce, è vero, ragazzi. La canale non è lenta, ma quella là è doppia, è due volte più veloce. Madonna! Ti fai 80 all'ora e ci fai... Sì, questi 70, questi 70... Quando crescono... Guarda, se ti scappano più lì. Ah, no! E mi chiedi tu qui? Com'è che ti piace? Ah, tu pulgarino, una piccola... ...pure è successato. Dai Lulù, tagliale, Lulù, tagliale! Tagli la collettorza lì! Tagli! Tagli! Sì? Sì? Sì! 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 Sì!